La sorveglianza urbana di Rotterdam è gestita dalla Rotterdam Parking Company, che si occupa anche di attività di monitoraggio e videosorveglianza. L'azienda conta al momento circa 1.400 dipendenti. Con il sistema precedente i nostri agenti erano dotati di dispositivi molto più ingombranti. Il problema principale era che si trattava di un sistema già obsoleto e che tutti i dati sulle contravenzioni rimanevano all'interno del dispositivo. Per ottenere le informazioni sulle multe era necessario attendere la fine della giornata quando gli agenti si ricavano in ufficio e collegavano i dispositivi alla docking station. Con il vecchio software questa procedura spesso non andava a buon fine. Con il nuovo sistema volevamo che tutte le informazioni inviate a e da i nostri agenti sul territorio potessero essere trasmesse in modalità wireless e in tempo reale. Ora utilizziamo dispositivi Apple iPhone, Apple iPod Touch, Novotel MiFi Wireless Access Point e stampanti portatili wireless MZ320 di Zebra. Il nuovo sistema viene impiegato quotidianamente da circa 400 di nostri agenti. Il nuovo sistema non è stato accolto con entusiasmo solo dal personale, ma anche dall'intera azienda. Grazie alla drastica riduzione delle attività amministrative è possibile disporre di più agenti sulle strade e pattugliare più a lungo. Gli agenti sono molto soddisfatti dei nuovi dispositivi meno ingombranti. Inoltre apprezzano la maggiore rapidità di stampa rispetto al vecchio sistema. Ora l'intero processo di registrazione, salvataggio e stampa di una contravenzione richiede lo stesso tempo necessario per la sola stampa con il vecchio sistema. La progettazione e lo sviluppo dell'applicazione di Globe Software è partita dall'osservazione di come i nostri agenti si muovono sulle strade. Il nuovo sistema può essere utilizzato per erogare contravenzioni per divieto di sosta. Le multe possono essere erogate al momento dell'inflazione, quando ad esempio qualcuno porta a passeggio un cane senza guinzaglio. Siamo inoltre in grado di aiutare i turisti che visitano Rotterdam e cercano una strada particolare. Le informazioni richieste possono essere stampate in tre diverse lingue da Apple iPod o iPhone con la stampante Zebra MZ320 per aiutare i turisti ad arrivare a destinazione. Uno dei requisiti principali era che le nuove apparecchiature fossero decisamente più leggere e meno ingombranti delle precedenti. La stampante portatile MZ320 di Zebra è una garanzia in termini di affidabilità e durata della batteria. Inoltre stampa in modo veloce, chiaro e preciso.